Momenti di paura nella serata di ieri alle porte di Bari, dove si è sfiorata la tragedia a causa di un incidente ferroviario che ha coinvolto due convoglie di Trenitalia ed un mezzo cingolato, probabilmente un escavatore o un trattore di piccole dimensioni. Lo scontro si è verificato intorno alle 22 in una zona di campagna a circa un chilometro dal passaggio a livello di Torreammare. Coinvolti un frecciargento diretto a Lecce ed un regionale attivo sulla tratta Fasano-Bari. Secondo una prima ricostruzione, i due treni che viaggiavano in direzioni opposte sono entrati in collesione con il cingolato che era fermo sui binari, probabilmente a causa di un guasto meccanico. Da quanto appreso, sembra che l'uomo alla guida del trattore abbia cercato di attraversare i binari da una zona di campagna per evitare il passaggio a livello chiuso, riuscendo comunque a mettersi in salvo prima del passaggio dei convogli. Non è esclusa l'ipotesi del furto da parte di Gnoti, che avrebbero poi abbandonato il mezzo all'arrivo dei treni. Una tragedia evitata che riporta alla mente il disastro ferroviario che si è verificato il 12 luglio scorso sulla linea delle ferrovie del Nord Barese, quando lo scontro tra due treni, tra le stazioni di Andria e Corato, è costato la vita a 23 persone. Un epilogo drammatico, questa volta fortunatamente evitato. L'impatto, infatti, non avrebbe provocato feriti tra i macchinisti e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze. Distrutto il mezzo cingolato, così come sono ingenti i danni ai convogli e ai binari all'impianto di segnalazione. La circolazione sulla tratta è stata interrotta per permettere la rimozione dei rottami ed è ripresa regolarmente intorno alle 6 di questa mattina. Sull'episodio indaga la polizia ferroviaria.